E' seguita l'autopsia sul corpo di Angelo Carbone, il giovane di 21 anni travolto da un trottore dopo che l'elica ne ha gangiato una gamba. Bisogna aspettare 60 giorni per conoscere l'esito, intanto i carabinieri hanno consegnato il telefonino del giovane deceduto all'autorità giudiziaria. Al suo interno c'è un video girato quel tragico pomeriggio, poche ore prima dell'incidente, che gli inquirenti ritenevano meritevole di essere esaminato. La salma di Angelo intanto è stata restituita alla famiglia, che abita incontrata a Gurgazzi, fra Scicli e Cavadaliga. Oggi pomeriggio ai funerali, la morte del giovane è molto conosciuta, Scicli ha sconvolto la città. Migliaia di messaggi, di condoglie ai genitori, alle due sorelle, al fratello e alla fidanzata. La morte di Angelo Carbone, 21 anni, falciato dalla fresa di un trattore mentre si avvicinava al mezzo per porgere un bicchier d'acqua all'amico che era alla guida. E' oggi oggetto di un'inchiesta della procura di Ragusa per omicidio colposo. Per il momento senza indagati, l'autopsia eseguita servirà anche per verificare la compatibilità delle cause della morte con la prima ricostruzione dei fatti compiuta. Il tragico incidente è avvenuto il pomeriggio di giovedì, intorno alle 16.30, nelle campagne di Cavadaliga, frazione di Scicli, in località Papazza. Il ragazzo è stato investito, ferito profondamente e poi travolto dalla fresa del trattore. L'uomo alla guida, anche di giovane età, era intento ad arrare un fondo agricolo. La fresa del mezzo ha gangiato Angelo Carbone, facendolo cadere rovinosamente a terra e ferendolo profondamente ad una gamba. Proprio le gravi condizioni e le ferite hanno reso necessario l'intervento del lei di soccorso, che ha prelevato il giovane, trasferendolo al trauma center dell'ospedale Garnizzaro di Catania. Le indagini sono state svolte dai carabinieri. Solo la ricostruzione di ogni dettaglio potrà fornire eventuali elementi per l'imputabilità di qualcuno, che per negligenza possa avere causato la morte del giovane. E bisognerà anche accertare se il giovane era lì per lavorare o per altre ragioni.